Grazie per questo panorama delle qualificazioni e del ruolo dei patentatoni di questa nuova figura creata dal pacchetto brevettuale. A questo punto le nostre relazioni sono completate, però abbiamo alcuni interventi programmati, se non mi sbaglio. Il primo di questo è della dottoressa Francesca Ferrari. Non so su che tema, ma ce lo dirà lei. Buongiorno a tutti. Pregherei solo di contenersi nel giro di 5-6 minuti. In realtà questa opera di contenimento credo che riuscirà senza nessuna difficoltà. Mi limito a ringraziare la professoressa Onorati e gli altri autorevoli relatori che ci hanno fornito un quadro un po' più chiaro di una materia abbastanza complicata e con la quale negli ultimi mesi tutti noi abbiamo dovuto confrontarci. In realtà vorrei occuparmi di qualche profilo della tutela cautelare. Sotto questo profilo sono molto grata alla dottoressa Tavassi che ha già inquadrato nei suoi termini generali il tema. E soprattutto ha già detto qual è la ragione per la quale la tutela cautelare costituisce un elemento fondamentale sia dell'accordo sulla Corte Unificata sia delle Rules of Procedure. In realtà è ben noto che i provvedimenti cautelari in generale nell'ambito della proprietà intellettuale ma in particolare in ambito brevettuale costituiscono da molti anni l'elemento centrale della tutela giurisdizionale. In questa materia si ha tutela giurisdizionale nella misura in cui questa giunga in tempi brevi. Non solo, un altro elemento per il quale la tutela cautelare mi sembra un tema rilevante dato dal fatto che molte difficoltà si sono poste soprattutto nell'ambito delle liti con elementi di transnazionalità in materia di brevetto europeo. Basti pensare alla stessa difficile identificazione del concetto di provvedimento cautelare provvisorio nel regolamento 44-2001, difficile identificazione del concetto che non è stata risolta neppure nel regolamento 1215 del 2012. L'accordo internazionale di istituzione del Tribunale Unificato dei Brevetti prevede all'articolo 62, come già ci ha detto la dottoressa Tavassi, la possibilità di emettere misure provvisorie cautelari. Concordo sul fatto che queste misure cautelari sono sostanzialmente molto simili a quelle del nostro codice della proprietà industriale, sono entrambi disegnati sulla base dell'accordo TRIPS e della direttiva enforcement. Un unico elemento di differenza, mi sembra che l'articolo 62 faccia esclusivo riferimento al sequestro dei prodotti sospettati di violare un brevetto. In realtà il sequestro industriale, così come è previsto nell'ambito del nostro ordinamento ed anche nella direttiva enforcement, può avere un oggetto ben più etereogeneo rispetto ai soli prodotti. Ci sono altre due o tre osservazioni. Innanzitutto l'articolo 62 fa riferimento al sequestro conservativo, ma anche al blocco dei conti correnti bancari. Sotto questo profilo ritengo che la disciplina contenuta nell'articolo 62 e poi nelle rules dovrà certamente essere coordinata con la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, volta a restituire un'ordinanza europeo di sequestro conservativo sui conti bancari, proposta di regolamento che è quasi giunta a definizione o quantomeno sembra essere quasi giunta a definizione. Quanto poi alla cognizione del giudice in sede cautelare, così come disegnata nell'ambito del russo procedure, oltre all'elemento che già ha ricordato la dottoressa Tavassi della identificazione a livello normativo e del criterio del bilanciamento degli interessi, criterio che tutti conosciamo perché la giurisprudenza ampiamente lo utilizza, però non ha ricevuto una consacrazione a livello normativo fino a questo momento, mi sembra interessante anche quanto è previsto dalla rule 206, che ci dice che identifica sostanzialmente un onere di disclosure a carico del richiedente della misura cautelare, che shall be under a duty to disclose any material fact known to it which might influence the court, including any pending proceedings and or any unsuccessful attempt in the past to obtain provisional measures in respect of patent or patents. Dovrà anche indicare all the information about any prior correspondence between the parties concerning the alleged infringement. Questo quantomeno nell'ipotesi in cui intende chiedere un provvedimento cautelare inaudito altra parte. Non più una settimana fa nel contesto del convegno dell'associazione fra gli studiosi del processo civile tenuto sia a Genova, si è parlato del dovere di collaborazione delle parti, del dovere di autoresponsabilità delle parti, dell'etica del processo. Mi sembra che mediante questa, quantomeno questa bozza, della rule 206, a livello comunitario si sia fatto proprio quell'orientamento già ben noto peraltro dal punto di vista comparatistico secondo il quale si deve ritenere esistente un dovere di verità e completezza delle allegazioni a carico delle parti e ciò non con la finalità di addivenire ad un accertamento veritiero dei fatti di causa, quanto al fine di perseguire la correttezza del comportamento processuale delle parti. Mi sembra che sotto questo profilo il disposto della rule 206 sia ben più chiaro di quanto non sia il nostro articolo 88 del codice di procedura civile che sancisce il dovere di lealtà e probità. Peraltro anche sotto questo profilo le rules soffrono dell'influenza tedesca e soffrono dell'influenza tedesca anche nella rule 207 che fa riferimento alle lettere di protezione che erano già ben note nell'ordinamento tedesco e sono state poi accolte anche in altri ordinamenti quali per esempio il Belgio e la Francia. In realtà come già ha ricordato la dottoressa Tavazzi uno strumento simile alle lettere di protezione è esistito anche nel nostro ordinamento nella prassi giudiziaria credo che chiunque di noi si ricordi del ricorso in prevenzione ricorso in prevenzione che però non ha mai avuto alcun riconoscimento normativo e non è quasi mai stato ritenuto ammissibile dalla giurisprudenza. Infine un ultimo cenno l'articolo 213 delle rules of procedure prevede come già ci ha detto la dottoressa Tavazzi la caducazione della misura cautelare ove non si è estaurato il giudizio di merito entro il termine di 31 giorni di calendario 20 giorni lavorativi. Questo termine viene mutuato dall'articolo 9.5 della direttiva enforcement e dall'articolo 50.6 dei TRIPS. Lo stesso termine lo rinveniamo nel contesto dell'articolo 132 del nostro codice della proprietà industriale. Nonostante la previsione dell'articolo 132 la dottrina italiana a seguito dell'entrata in vigore prima del rito societario poi del rito civile così come modificato del rito ordinario così come modificato dalla legge 80 a 2005 si è sempre espressa a favore dell'anticipatorietà quantomeno di alcuni dei provvedimenti cautelari in questa materia certamente dell'inibitoria. Ora la dottrina italiana pur rilevando il contrasto fra l'interpretazione domestica e le previsioni internazionali ha sostenuto come questo contrasto sarebbe soltanto apparente come affermare l'illegittimità della stabilità cautelare dell'inibitoria sarebbe conclusione inaccettabile contrastante con le esigenze di efficienza del sistema. In realtà ancora una volta a livello comunitario ci si pronuncia a favore della strumentalità rigida e ci si pronuncia a favore della strumentalità rigida non solo nel contesto della rule 213 ma anche nel contesto della rule 206 quando nell'identificare il contenuto dell'istanza cautelare si identifica mediante le conclusioni della causa di merito. Questo può forse indurci a ripensare al rapporto fra anticipatorietà e conservatività dei provvedimenti cautelari di diritto industriale nel nostro ordinamento forse sì va però sottolineato come la previsione dell'onere dell'instaurazione del giudizio di merito forse costituisca in una certa misura nel sistema del quale ci stiamo occupando il contraltare della mancata previsione di strumenti di impugnazione del provvedimento cautelare. Grazie scusatemi Grazie 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 Grazie